Amici di TuttoMotori, benvenuti a questo nuovo appuntamento. Siamo alla concessionaria Opel Auto Si di Reggio Emilia in via Fratelli Cervi 8. Oggi cominciamo dai veicoli commerciali, ricordiamo sempre a tutti che il super ammortamento del 140% è stato prorogato, per cui venite a trovarci qui in via Fratelli Cervi perché abbiamo una gamma di veicoli commerciali molto molto forniti. Qui al mio fianco l'Opel Vivaro, il furgone nostro di punta per eccellenza, fornibili in due passi e in diverse motorizzazioni e l'abbiamo anche nella versione 9 posti autovettura oppure 6 posti autocarro. Veniteci a trovare, li potete vedere e toccare i persone. Ora focalizziamoci sulla vettura di punta, la nostra Opel Mokka. In questo mese abbiamo una promozione molto molto forte, la super ottimazione per voi con otto anni di garanzia, quindi avete sentito bene. Abbiamo un extra sconto oltre 5 mila euro e proponiamo gli otto anni di garanzia sulla vettura. Ditemi voi qual è quella marca che vi può dare così tanto, con una macchina altrettanto bella. Ricordo sempre le motorizzazioni. Opel Mokka ha tutte e tre le motorizzazioni in essere. Benzina, benzina GPL con il brillantissimo 140 cavalli turbo e i due motori turbodiesel dove il 136 cavalli 1.6 la fa da padrona. Sono tutte vetture Euro 6 a basso impatto ambientale. Venitele a vedere e provare. Rinnovo sempre la prova su strada ai nostri clienti senza impegno perché ne vale veramente la pena. Anche su Opel Corsa rinnoviamo sempre la promozione in essere con la super ottimazione fino a 5 mila euro di sconto con gli otto anni di garanzia. Oggi appunto nella gamma Opel possiamo offrirvi su ogni vettura otto anni di garanzia, quindi venite a vedere e a chiedere ai nostri venditori che vi aspetteranno e vi daranno tutte le delucidazioni del caso. Parliamo sempre di nuovo, di veicoli commerciali, ma non parliamo mai di vetture usate. Ricordo sempre che all'interno della nostra concessionaria, che è molto ospitale, le nostre vetture usate sono lavate e pulite al coperto, quindi per chi cercasse anche una vettura usata venite a chiederlo. Abbiamo le vetture al coperto, le potete toccare, visionare e provare su strada. Per oggi è tutto, un saluto da Autosi e da Marco Golinelli e ci vediamo al prossimo appuntamento.